Se voi ogni giorno imparerete a vedere sempre di più l'uno nel volto dell'altro il dono di amore che Dio vi ha fatto, allora, ecco, voi costruirete la vostra vita insieme veramente. E voi non uscirete da questo tempo che così come siete entrato, voi uscirete diverse perché voi uscirete non più due ma una cosa sola. Grazie per la visione!